Una donazione, quasi una borsa di studio, il ricordo di Patrizia Motetta. Il ricordo dobbiamo dire che di questa giovane artista non si è mai spento, abbiamo visto le sue opere e le abbiamo ammirate al forum. Adesso grazie all'associazione Lamberti il suo ricordo prosegue. Continua con questa donazione di materiale al liceo artistico di Omenia. Un'iniziativa che parte dai Lamberti, che avrete voluto appunto ricordare così Patrizia. Beh parte dai Lamberti e parte anche dalla famiglia, dal padre e dalla madre che hanno donato alcuni quadri che sono stati venduti e con il ricavato abbiamo messo in piedi questa cosa con l'intenzione di continuare nei prossimi anni fino a quando la somma sarà esaurita. Quest'anno il riconoscimento è andato al liceo artistico e in futuro anche gli altri corsi potranno beneficiare di questi fondi che sono arrivati a 3.000 euro se la memoria non mi inganna. Sì, penso che cercheremo di distribuire equamente tra il liceo artistico e il liceo musicale i fondi che saranno disponibili. Per lei, per tutta la famiglia è certamente un bel momento insomma ricordare Patrizia. Prima l'abbiamo ricordata con una mostra lo scorso anno, adesso anche con questa donazione al liceo artistico. Lei era davvero un artista tutto tondo Patrizia? Ma per noi intanto è una graditissima sorpresa l'aver posto questa targa a ricordo della Patrizia, ci ha colpiti e ci ha commossi naturalmente. E' un fatto importante perché noi stessi l'abbiamo scoperta dopo la nostra figlia e abbiamo capito quanto fosse apprezzata e stimata. Un gesto gradito sicuramente, oltre che un bel ricordo di Patrizia questa preside. E' un gesto molto gradito e anche molto nobile. Il fatto che sia stata scelta la nostra scuola proprio perché c'è consonanza tra gli studi diciamo d'arte musicale, artistico eccetera e il talento che questa ragazza ha saputo esprimere ci rende molto felici anche perché è un modo per far vivere la memoria di una persona che ci ha lasciati, che non c'è più.